Formare figure professionali qualificate da inserire nell'azienda Umbre del settore moda e del tessile abbigliamento. È la grande sfida a cui è chiamata l'Umbria, che vanta numerose realtà d'eccellenza su questo segmento, con export di qualità e numeri crescenti, ma profili professionali difficili da reperire. Da qui nasce la stretta collaborazione tra Confindustria Umbria e due scuole tecnico-professionali di Perugia Eterni, con un percorso di formazione denominato Istituti d'eccellenza del sistema moda. L'iniziativa è promossa dalla sezione Tessile abbigliamento di Confindustria Umbria per intrecciare il fabbisogno delle aziende del settore con l'offerta formativa degli istituti a indirizzo moda. Realizzato in sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, il progetto coinvolge 15 imprese Umbre del comparto e due istituti tecnico-professionali Umbri con indirizzo moda, l'Istituto di Istruzione Superiore Cavour Marconi Pascal di Perugia e l'Ipsia Sandro Pertini di Eterni. I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa nella sede di Confindustria Umbria a Perugia. Nei prossimi anni le aziende del settore Tessile abbigliamento avranno sempre più bisogno di giovani preparati in possesso delle competenze che diano loro l'opportunità di inserirsi rapidamente nel sistema produttivo, è stato detto. Un appello che da tempo molte aziende del settore, anche dal territorio gubino, hanno lanciato al mondo della scuola e a quello delle istituzioni. Il progetto Istituti d'eccellenza del sistema moda è un primo passo con cui imprese e scuole fanno squadra proprio per fornire agli allievi le conoscenze e gli strumenti richiesti dal mondo del lavoro. Presenti all'incontro illustrativo il presidente della sezione Tessile abbigliamento di Confindustria Umbria, Massimiliano Bagnolo, affiancato dal vicepresidente Leonardo Mazzocchio. Gli obiettivi da qui ai prossimi mesi sono riprogettare i curriculum didattici in modo da allinearli alle esigenze del settore e incrementarne l'attrattività tramite attività di orientamento e promozione rivolte ai ragazzi e alle loro famiglie. Tra gli interventi previsti anche l'ammodernamento dei laboratori scolastici mettendo a disposizione macchinari e strumentazioni, altre iniziative invece si dedicheranno alla formazione e all'aggiornamento dei docenti. Non mancheranno visite aziendali, testimonianze in aula da parte del personale dell'impresa e percorsi di alternanza scuola-lavoro. Si tratta di un progetto importante per il mondo scolastico, ha sottolineato Antonella Iunti, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, presenta a sua volta l'incontro, evidenziando che il progetto offre ai ragazzi gli strumenti per inserirsi nel mondo del lavoro e contemporaneamente risponde alla necessità di integrare l'ambito della scuola con il contesto socio-economico della regione. Da qui la collaborazione anche con l'Ufficio Scolastico Regionale.